Ora sette e quindici, buongiorno. Sento che sta qui dentro di me, Sento che c'è, mi chiedo cos'è. Tu mi chiedi che cos'è, Tu mi chiedi cosa sto cercando. Aspetta! Sento che sta qui dentro di me, Sento che c'è, mi chiedo cos'è. Tu mi chiedi che cos'è, Tu mi chiedi cosa sto cercando. Aspetta! Ora sette e sedici, buongiorno. Prima del caffè, Io mi chiedo che cos'è, Tu mi chiedi che cos'è, Tu mi chiedi cosa sto cercando. Aspetta! 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 Sento che sta qui dentro di me, Sento che c'è, mi chiedo cos'è. Ora sette e dici e sette. Buongiorno! Orde sette e dici e sette. Buongiorno! Ora sette e dici e sette. Buongiorno! Orde scepoli delle ore. Grazie a tutti